A 21 anni dalla sua scomparsa, Selva di Progno celebra il ricordo di Monsignor Ferrazzetta, francescano primo vescovo della Guinea-Bissau, un uomo di pace che lascia tutt'oggi una grande eredità spirituale, morale, civile, un padre e molto di più per Filomeno Lopez, giornalista di Radio Vaticana e filosofo che alla figura di Monsignor Ferrazzetta ha dedicato numerose pubblicazioni. Poi sai, da noi si dice che i morti non sono mai partiti, lasciano semplicemente, soprattutto persone che hanno significato qualcosa per noi, lasciano semplicemente di essere con noi nella fisicità, per ora in avanti continuare ad essere sempre in noi, quindi non sono mai partiti in realtà.